Francofonte, un cavo elettrico pensolante dalla finestra, sospetto regato, blitz militare, denunciate due sorelle. Era evidente un filo elettrico pensolante tra due finestre e due abitazioni insospettite per la strana installazione, contraria a ogni norma di sicurezza. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno effettuato una verifica più puntuale, sopportate anche da personale specializzato della società di erogazione dell'energia elettrica, accertando che un contatore relativo a una utenza disattivata da tempo era stato aggirato mediante un collegamento effettuato a monte. In altre parole, un cavo elettrico era stato abusivamente collegato alla linea in entrata prima che questa aggiungesse al contatore disattivato, fornendo quindi energia a un appartamento senza che potesse essere rilevato alcun consumo. È risultato infatti che gli impianti delle rispettive abitazioni confinanti, dove due donne vivono con le proprie famiglie erano abusivamente collegate alla rete elettrica pubblica. Conclusione degli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri della stazione di Francofonte, i due titolari degli alloggi in questione sono stati deferiti dall'autorità giudiziaria con l'accusa di furto e gravato, in quanto la legge prevede che la corrente elettrica, ancorché sia un bene immateriale, sia considerata la stregua di un qualsiasi altro bene mobile.